L'elezione di Giorgia Meloni a presidente del Partito dei Conservatori è un grandissimo risultato. Lo è sia per il riconoscimento pieno che viene dato a livello internazionale a Fratelli d'Italia e soprattutto alla leadership di Giorgia Meloni, ma è anche una grande chance per il futuro perché apre una grande opportunità, quella non solamente di rafforzare la leadership di Giorgia a livello internazionale ma anche di poter far sì che il nostro Paese conti nelle sedi competenti e possa svolgere un'azione seria e credibile a livello europeo ed internazionale. Ecco perché io insieme a tutta la delegazione italiana di Fratelli d'Italia siamo particolarmente soddisfatti per questo risultato raggiunto. Aguri e buon lavoro Giorgia.